Attivo la registrazione. Allora, buongiorno a tutti. Oggi il titolo che ho voluto dare a questo seminario è Emergenza climatica e ambientale e seguo un po' la filosofia che stanno usando tutti i nostri colleghi che hanno fatto per anni seminari sui cambiamenti climatici, ma come vedremo adesso il problema si sta aggravando e quindi stiamo entrando in una fase in cui il cambiamento c'è, è sempre più evidente e sta cominciando a dare delle risultanze preoccupanti. Intanto vi faccio vedere di cosa parlerò oggi. Dopo un'introduzione tra tempo e clima, che è sempre un elemento di confusione per tutti, vi vorrei far riflettere sui dati che ci evidenziano il cambiamento climatico in atto. Un fenomeno globale, ma che localmente ha delle accelerazioni. Vedremo per esempio dove recentemente. Rifletteremo su quali sono le cause e poi vedremo un cenno su cosa ci aspettiamo che succeda nel futuro e quali sono i metodi che utilizziamo per determinare cosa succederà in futuro. Poi rifletteremo un po' nella seconda parte sugli effetti. Di effetti potrei fare un seminario solo per quello di mezzogiornata, quindi ho scelto i più evidenti. Parleremo delle montagne perché viviamo in Piemonte. Parleremo anche dell'inquinamento atmosferico, un cenno sul bilancio idrico e sulle risorse agricole. Che impatto ha il cambiamento climatico su questi aspetti. Poi spero di avere il tempo nella fase finale. Due parole su cosa si può fare per contrastare il cambiamento climatico. Cosa si dovrebbe fare sia a livello collettivo sia a livello individuale. Inizio con l'ABC, clima e meteorologia. Ripeto perché questo è un elemento di confusione che purtroppo si vede ancora adesso su tutti i mezzi di comunicazione. Molti non hanno capito la differenza tra clima e meteorologia. Vi ho fatto vedere l'etimologia. Questa è tutto sommato la slide che faccio vedere a tutti gli studenti di tutti i miei corsi, come slide numero uno, proprio per vedere da dove derivano le parole. Dal greco. Meteorologia viene da meteoro e logos. È stata coniata da Aristotele, indica le cose che stanno in cielo. Invece clima viene da inclinazione e tendenza. I greci hanno associato questa parola all'inclinazione dei raggi solari, come evidenziato qui in figura, perché si erano accorti che a seconda dell'inclinazione dei raggi solari a mezzogiorno, la temperatura della località ne risentiva. L'impero macedono era esteso dalle repubbliche baltiche fino praticamente alle sorgenti del Nilo e quindi avevano modo di vedere come variava la temperatura in tutte queste zone. Adesso le due parole hanno assunto questo significato. La meteorologia o il tempo meteorologico indica dei fenomeni istantanei, delle fluttuazioni di breve periodo che possono essere previste fino a una settimana di anticipo e che sono molto variabili. Tra queste ricordiamo l'andamento giorno-notte, ma anche il ciclo-anno. Sono tutti elementi che fanno parte della meteorologia. Anche la variabilità tra un anno e l'altro fa parte della meteorologia. Quindi, per esempio, questo mese di giugno, che ha avuto i primi 20 giorni freschini, con temperature sulla falsa riga dei valori medi dell'ultimo trentennio, anche meno, fa parte comunque di un elemento meteorologico. Non ci indica il clima che sta cambiando. La meteorologia la identifichiamo con tutta una serie di misure, tra cui vi ho riportato quelle che acquisiamo in tempo reale anche durante il lockdown. La stazione meteo che abbiamo sul tetto dell'istituto ha sempre funzionato e qui ci sono i valori di questa mattina alle 11.29. Questo fa parte del tempo meteorologico. Se noi prendiamo tutti questi dati e li mediamo su un periodo sufficientemente lungo, per esempio 30 anni, otteniamo il clima. Per esempio, questo è l'andamento delle temperature massime a Torino, in un trentennio di riferimento, e possiamo confrontarlo con altre località. Per esempio, Palermo, che vediamo da quest'altra parte, e qui possiamo riflettere guardando questi due grafici. Qui sì che stiamo parlando di clima, ma ripeto, ogni punto, ognuno di questi punti è la media di 30 diversi mesi, 30 diversi mesi di ottobre, nel caso che sto segnando io col mouse. Quindi ci sono 30 anni di diversi ottobri che sono stati immediati. Vedete che la curva è molto liscia. Abbiamo un mese più caldo a luglio, un mese più freddo a gennaio. A Palermo abbiamo un mese più caldo che invece agosto, e invece per il mese più freddo se la contendono gennaio e febbraio. Se andiamo a vedere, in estate Palermo e Torino hanno temperature simili, c'è un grado di differenza, mentre invece d'inverno abbiamo quasi 9 gradi di differenza tra gennaio a Palermo e gennaio a Torino. Quindi questo ci rivela la differenza di clima tra le due località. Se poi guardiamo non solo le temperature massime, ma anche per esempio le precipitazioni, questo ci identifica il clima continentale tipico di Torino, con i due massimi di precipitazione nelle due stazioni intermedie. A Torino più alto in primavera che in autunno, ma in autunno è più diluito su diversi mesi, da settembre fino a novembre. E i minimi invece d'estate e d'inverno, dicembre e gennaio sono i mesi con meno precipitazioni e luglio a seguire. Invece a Palermo abbiamo precipitazioni molto simili nella stagione fredda, tra settembre e novembre diciamo, ma manca totalmente il massimo primaverile e in estate piove pochissimo. Questo è utilissimo se io devo pianificare per esempio delle opere agricole tipo invasi idroelettrici oppure pianificare le coltivazioni. È ovvio che non posso pensare di mettere delle risaie a Palermo, viste le precipitazioni che ci sono tra primavera e estate. Vediamo adesso un andamento climatico globale. Queste curve che vedete sono sei. Si riferiscono a sei diversi centri che lavorano di climatologia nel mondo. La CRU, HUD, CRU è in Inghilterra. G-STEMP, NOAA, CNW sono invece americane. Il CNWF è in Inghilterra anche lui, ma è il centro europeo. E poi c'è il Berkeley Earth che è anche americano. Sono sei diversi centri che usano sei diversi sottoinsiemi di stazioni meteo del mondo, di cui hanno preso i dati e poi hanno fatto gli andamenti medi per ricostruire il clima. E' interessante vedere come nell'ultimo cinquantennio sono praticamente tutte allineate tra loro. Ci sono delle fluttuazioni inferiore al decimo di grado in qualche anno, però il segnale è lo stesso per tutti gli andamenti. Dove c'è la crescita, c'è un anno con un massimo relativo o un minimo relativo, c'è per tutti i database. Precedentemente alla Seconda Guerra Mondiale ci sono un po' più di discrepanze. Questo perché c'erano meno stazioni, quindi la scelta delle diverse stazioni poneva qualche differenza nella ricostruzione. Tra l'altro la barra grigia è l'errore che viene associato a queste ricostruzioni, che all'inizio del periodo è abbastanza grande. Tanto è vero che in genere si parla di 1880 come anno iniziale dopo il quale calcolare le medie globali. Prima c'è un'incertezza troppo grande. Che cosa ci dice comunque questo andamento? Il primo discorso che vi ho fatto è far vedere che tutte le ricostruzioni danno lo stesso andamento. Però cosa dice l'andamento? Ci fa vedere un periodo di aumento di temperatura moderato tra il 1910 e il 1940. Un secondo periodo tra il 1940 e il 1975 di leggera diminuzione delle temperature. E un terzo periodo con un incremento notevole che continua tuttora, è stato massimo nel 2016, che è l'anno più caldo, ed è l'incremento maggiore di tutta la serie come trend. Più o meno la variabilità interannuale è rimasta sostanzialmente la stessa dal 1880 fino ad oggi, cioè le fluttuazioni che ci sono tra un anno e l'altro. Qui c'è la classifica degli anni più caldi, ordinata, tra l'altro, e non vi ho detto che i numeri, ma c'è scritto qui sulla barra, non rappresentano le temperature assolute, ma le anomalie calcolate su un trentennio di riferimento, che è, per scelta di chi ha fatto questo grafico, il trentennio tra il 1981 e il 2010, praticamente il più recente completo che abbiamo in riferimento. Qui la classifica invece lo tratta dal sito della G-STEMP, che preferisce calcolare le anomalie rispetto al secolo 1901-2000, quindi si tratta comunque solo di uno shift rispetto a questi dati. L'anno più caldo risulta è il 2016, 2019, 2015 e così via tutti gli altri. Vi faccio notare perché il 2016 è stato un anno così caldo. Questo ci si può pensare, diciamo, il risultato a cui sono giunti gli studiosi è che nel 2016 si è verificato un forte evento di El Nigno. El Nigno che cos'è? È un fenomeno di interazione tra l'oceano e l'atmosfera che praticamente sconvolge la circolazione nell'oceano pacifico tropicale. Quando si verifica il fenomeno di El Nigno, praticamente c'è meno rimescolamento tra l'acqua superficiale del Pacifico e l'acqua profonda. Quindi l'acqua superficiale praticamente se ne sta in superficie. Siccome quando si rimescola con quella profonda vuol dire che da qualche altra parte del Pacifico quella profonda riemerge, il fatto che questo non sia avvenuto nel 2016 ha reso più calda la zona del Pacifico tropicale. E siccome il Pacifico tropicale è molto esteso, questo ha influenzato anche la temperatura media globale, rendendola quindi maggiore. E' ovvio che se io avessi guardato la temperatura del Pacifico in profondità, nello stesso anno l'avrei visto un'anomalia negativa. C'è stato solo meno rimescolamento, non è che quell'anno è stato più caldo sulla Terra, è stato distribuito in modo diverso il calore. Questo è successo altre volte. Se vado a vedere l'indice El Nigno, sì, è successo tre volte di recente di avere un fenomeno El Nigno molto significativo. Oltre al 2016 c'è stato anche il 1998 e poi prima ancora il 1982. Sono questi tre anni qua che ho segnato. E' interessante notare che sono tutti anni inseriti nel trend di riscaldamento. E qual è stato l'effetto? Sono tutti anni con valori simili dell'indice El Nigno, quindi il fenomeno praticamente è stato analogo. Però vediamo che il 98 in questa classifica è già sparito al decimo posto e l'82 non c'è più, non è presente in questa classifica. Tra l'altro io me lo ricordo bene l'82, è stato un anno con un'estate molto calda anche in Italia, per l'epoca era quasi insopportabile e io ho fatto l'esame di maturità quell'anno. E mi ricordo che andavo a studiare nel piano seminterrato perché trovavo troppo caldo stare in alto, praticamente studiavo in cantina. Allora trovavo insopportabile le temperature dell'82. Adesso l'82 non è neanche tra i primi 20 anni più caldi. Dopodiché è vero che qui ho fatto un confronto tra quello che sentivo a casa mia nel Torinese e un valore medio globale. Però comunque è indicativo questo fatto. Se adesso noi vedessimo le temperature del 1982 grideremmo al freddo e ci sarebbero i titoloni dei giornali che parlerebbero di aeree artiche o glaciali in arrivo. Il tempo è cambiato di molto. Se andiamo a vedere solo in questo grafico ci accorgiamo che tra l'82 e oggi ci sono quasi 0,8 gradi in più a livello globale. Questo filmato breve vi fa vedere cosa è successo. Io non so come viene qui l'animazione con zoom, ma se funziona qualcosa dovreste vedere un alternarsi di zone blu scure e giallo arancioni nella parte iniziale del grafico col blu scuro spesso messo nella parte del mar glaciale artico vicino al polo nord o nella zona degli Stati Uniti Canada oppure in Siberia. E poi man mano che ci avviciniamo al 1960 cominciano ad apparire delle chiazze arancioni e anche rosse scure sempre più numerose. Finché dal 1980 in poi praticamente sono prevalenti le aree di colore giallo, arancione e rosso e quelle blu sono praticamente minoritarie. Sotto intanto vedete la temperatura media globale che abbiamo visto prima. È schiacciata, quindi vedete variazioni molto più piccole. Ma questo per dirvi che ci sono delle variazioni localmente molto intense. Adesso fermo un attimo l'animazione quando arriva al 2016 per farvi vedere che nel 2016 praticamente avevamo tutto l'emisfero nord con un colore rosso scuro. Questo colore rosso scuro in questa anomalia di temperatura riferita al trentennio 51-80 corrisponde a 6 gradi circa. Qui nell'area più scura vicino al mare glaciale artico. Quindi a fronte di una media globale di circa un grado di anomalia, localmente nella zona soprattutto dell'Artico ma anche Stati Uniti, anche Siberia settentrionale, abbiamo variazioni di temperatura tra i 2 e i 6 gradi di anomalia. Quindi sono veramente mostruose. Notate una zona blu nell'Atlantico settentrionale. Questo è il punto che praticamente tiene viva la circolazione termoalina, cioè il nastro trasportatore che porta le acque fredde del nord Atlantico fin sotto l'equatore in profondità. Il fatto che sia fredda questa zona vuol dire che questa circolazione termoalina è rallentata ed è una cosa che è in linea con gli effetti del cambiamento climatico. Notate che questa zona del nord Atlantico è sempre con anomalia un po' più negativa delle zone circostanti. Qui c'è il 2018, anno finale, negli ultimi vent'anni praticamente tutta la zona del polo nord è sempre stata in anomalia positiva. Nel 2018 in particolare anche l'Antartide è tutta in anomalia positiva, meno intensa ma positiva. Quindi le due zone ghiacciate sono in anomalia positiva. Adesso vediamo in Italia cosa è successo. Questo è il grafico in italiano, parte dal 1800, è stato ricostruito dall'Istituto di Scienze dell'Amosfera e del Clima del CNR. E' molto simile ai grafici precedenti. Se voi focalizzate dal 1880, che vuol dire da qui, fino a oggi, praticamente è una curva che come andamento di curva ripercorre più o meno in modo molto simile a quello che abbiamo visto prima a livello globale. L'aumento tra il 1900 e il 1940, la leggera diminuzione tra il 40 e il 75, poi l'aumento più consistente dopo il 75. Le differenze quali sono? La variabilità interannuale che è molto maggiore. Questo è normale, perché l'Italia è molto piccola rispetto alla terra e quindi più piccolo il territorio e più forti sono le variazioni tra un anno e l'altro. E la seconda cosa è la scala. L'aumento qua, se guardate l'anomalia, è molto maggiore, perché ci sono dal momento iniziale, cioè intorno al 1900 a oggi, ci sono praticamente due gradi di anomalia di temperatura. Quindi abbiamo avuto un aumento non di uno, ma di due gradi, il doppio dell'anomalia globale. Anche questo non è una novità, perché si sapeva che il Mediterraneo reagisce di più al cambiamento climatico. Quindi siamo in una zona che i climatologi chiamano hot spot, cioè punto caldo, sia perché fa più caldo, sia perché è più sensibile. Poi, se andassi a vedere il dettaglio stagionale, vedrei che l'aumento è stato più sensibile in estate e in autunno, che ci sono state molte più ondate di calore, ma ci sono state anche ondate di freddo intenso. Queste sopravvivono, cioè non è detto che col cambiamento climatico spariscano tutte le ondate di freddo. Ce n'è di meno, ma ci sono. Ricordiamo, per esempio, il febbraio del 2012, che ha avuto due settimane molto fredde. È stato forse l'ultimo periodo invernale molto freddo che abbiamo avuto qui in Piemonte, con minime di meno 14 gradi anche in pieno centro a Torino. Guardiamo un'altra variabile, pioggia. Perché il clima non è solo temperatura, anche se si guarda più facilmente la temperatura perché si misura meglio e perché ha un andamento più regolare. Se guardate la temperatura, questa è l'Italia, vedete già subito una cosa. C'è un trend, perché a occhio già vedo che la curva parte dal 10%, qui la pioggia è espressa in percentuale, e finisce sotto lo 0%. Quindi c'è una variazione di meno 10% nel quantitativo di precipitazione. Però la variabilità tra anno e anno è enorme. Se voi andate a prendere il massimo, arriva intorno al 40%. Se prendete il minimo, arriva intorno al meno 30%. Facciamo un contotondo mille millimetri all'anno, cioè un metro di pioggia, che può essere un valore medio del nord Italia. Torino è circa 850, per avere un numero di riferimento. Il 30% in meno vuol dire 700 millimetri, il 40% in più vuol dire 1400 millimetri, che è il doppio. Quindi la variabilità interannuale è tra 700 e 1400, che è molto di più del 10%, che sono 100 millimetri di differenza in questi due secoli. Quindi un matematico che guarda questo segnale dice, vabbè c'è un trend ma non è statisticamente significativo, e la chiude lì. Però un fisico e un idrologo che guardano questo segnale dicono, ok, non è statisticamente significativo, però intanto quei 100 millimetri in meno che cadono sul nord Italia, per esempio sul bacino del Po, ci danno una portata che è in diminuzione. Qui ci sono tutti i calcoli fatti nel periodo 1923-2000 con questi numeri e nel periodo 2001-2010 con questi altri numeri. I periodi sono lunghi diversamente, però se faccio il confronto vedo che tutti i termini sono in diminuzione. Quindi sarà un segnale statisticamente non significativo, ma intanto la portata media è diminuita, la portata limite è diminuita, i periodi di magra sono più numerosi e la portata nei periodi di magra è inferiore, la portata con durata 355 giorni. Sono tutti parametri importanti in idrologia che ci fanno capire che c'è meno acqua a disposizione sostanzialmente. E io con quest'acqua devo sostenere l'agricoltura. Quindi, d'accordo, tra un anno e l'altro ci sono variazioni forti, il segnale non è statisticamente significativo, ma intanto c'è meno acqua e questo è un effetto diretto del cambiamento climatico. Vediamo adesso di chi è la colpa. Lo sappiamo dell'effetto Serra, ma lo sappiamo da tanto tempo. Questo è l'articolo pubblicato da Arrhenius nel 1896 sul Philosophical Magazine and Journal of Science in cui lui aveva fatto uno studio e aveva sostenuto che nelle zone artiche la temperatura avrebbe potuto aumentare di circa 8-9 gradi se la concentrazione dell'acido carbonico, che era il nome che si dava all'anidride carbonica a quell'epoca, fosse aumentata di 2,5 o 3 volte. Nel 1900 c'erano 300 ppm di CO2, quando più o meno lui ha pubblicato questo articolo. E adesso le proiezioni per la fine di questo secolo parlano di variazioni di 5-6 gradi, come vedremo tra breve, a livello globale. E visto che adesso, con un grado di anomalia a livello globale, nelle zone artiche vediamo 5-6 gradi di anomalia locale, possiamo immaginare che i numeri che lui aveva teorizzato sono perfettamente realistici. Quindi nel 1896 era comparso questo articolo, adesso siamo nel 2020. I gaserra, che lui aveva visto come responsabili di questi cambiamenti climatici, stanno continuando ad aumentare. Qui vediamo come sono variati dal 1750, più o meno quando l'inizio della rivoluzione industriale ha cominciato a far sentire i suoi effetti. Qui dove c'è scritto now sono i valori di oggi, e ve li faccio vedere se funziona. Ok, questi sono i valori di CO2, registrati a Mauna Loa, ad esempio, negli ultimi anni. Vedete che l'andamento del 2020 è perfettamente in linea con quelli degli anni precedenti, ma... Scusa Claudio, ma io non vedo niente, vedo una cosa grigia, gli altri vedono qualcosa. Ah, ok. Anche io vedo un quadrato grigio. Ok, come non detto. Sono un quadrato grigio. Come non detto. Comunque la famosa curva di Killing. Quello che volevo far vedere era che praticamente continuiamo a avere il trend di crescita dei 2.5 ppm e non c'è stato nessun effetto da parte dei vari lockdown che ci sono stati nei vari paesi del mondo. Cioè praticamente il trend di crescita che stiamo registrando nel 2020 è identico al trend di crescita del 2019, del 2018 e così via. Finora non abbiamo visto nessuna variazione e probabilmente non la vedremo. Stessa cosa per il metano che ha delle percentuali di aumento diverse ma che comunque diciamo ha delle curve che si sovrappongono perfettamente. Stessa cosa per il protossido di azoto che questi tre sono i gas serra numero 2 e 3 e 4. Il gas serra numero 1 e il vapore lato. Abbiamo perso... Ah ok, ora è tornato. Avevamo perso anche il video completo. Adesso è ritornato. Probabilmente quel video ci ha un po' scassato la... Adesso va bene. Ok, spero che funzioni. Torno indietro. Comunque, sono tutti in aumento. Io praticamente potrei fregarvi e farvi vedere l'andamento di uno dei tre e dirvi che sono gli altri due e non ve ne accorgereste perché gli andamenti sono molto simili. Tranne il metano che ha avuto questo calo intorno al 2000 che non è ancora spiegato. Non si capisce perché c'è stata una diminuzione della crescita intorno all'anno 2000. Adesso qui mancano gli ultimissimi anni. Ha ripreso lo stesso trend di prima. Quindi il metano ha avuto questo calo intorno al 2000. Cosa fanno questi gas sera? Come vi dicevo, i gas sera, abbiamo visto il secondo, il terzo e il quarto. Il primo è il vapore acqueo. Il vapore acqueo non ha praticamente... non possiamo controllarlo perché il quantitativo di vapore acqueo dipende dalla temperatura per la legge di Clausius Clapeyron e quindi, tra l'altro, con l'incremento di temperatura avremo generalmente sulla Terra più vapore acqueo. Però possiamo invece controllare gli altri tre gas sera che vengono emessi naturalmente con certi processi ma noi contribuiamo ad aumentare le emissioni e l'aumento delle emissioni che abbiamo provocato dall'inizio della rivoluzione industriale ha già fatto aumentare l'effetto sera di un grado o meglio, il contributo dell'effetto sera al riscaldamento del pianeta è aumentato di un grado. Qui abbiamo tre numeri, tre temperature. La prima in alto, meno 18 gradi è la temperatura di emissione. Sarebbe la temperatura media della Terra se non ci fosse l'atmosfera e quindi non ci fosse riga sera. Quindi niente vapore acqueo, niente CO2, niente metano, niente protossido deazoto e niente tutti gli altri gas sera. Avremmo meno 18 gradi. Con l'effetto sera naturale, quindi fino al 1700 circa, la temperatura media della Terra era 14 gradi. Adesso è 15 gradi. E quel grado di aumento è quello che abbiamo visto proprio nel grafico precedente. Questa è una tabella dell'IPCC. Io spero che si veda questa tabella. In particolare, c'è il contributo di tutti i vari forzanti radioattivi, quindi CO2, metano, protossido deazoto e tutti gli altri. C'è anche il contributo degli aerosol che è in parte positivo e in parte negativo. C'è anche la barra d'errore associata ad ogni componente per far capire che per esempio sugli effetti degli aerosol sulle nubi c'è ancora parecchia incertezza. Quindi il valore medio è stimato negativo, ma con una barra di errore molto ampia. E poi c'è la, diciamo, le ultime tre bari in basso sono il contributo complessivo antropico nel 1950, nel 1980 e nel 2011. Tutti questi numeri sono espressi in watt per metro quadro, cioè in radiazione, in termini di radiazione solare. Praticamente dal 1950 al 2011 si è passati da circa mezzo watt per metro quadro a circa due e mezzo, quindi è aumentata di due watt per metro quadro. È come se l'attività solare si fosse incrementata, cioè l'effetto sarebbe equivalente. Se noi non avessimo variato i gas sera, ma l'attività solare fosse aumentata in media di due watt per metro quadro, avremmo avuto lo stesso contributo in pratica. Giusto per farvi riflettere, tante volte si legge anche sui giornali, anche da parte di scienziati eminenti nel loro campo di ricerca, che l'attività solare è prevista in diminuzione nei prossimi anni. A volte i toni sono apocalittici, perché l'articolo fa quasi pensare che il sole si spegne. In realtà l'attività solare anche nei periodi di minimo è comunque in grado di mandarci quei 1.365 watt per metro quadro. Nei periodi di massimo ne mando un po' di più, due o tre watt in più. Il ciclo solare dura 11 anni, il valore medio su questi 11 anni, quando io passo da un minimo di attività solare a uno dei massimi più forti degli ultimi secoli, è in genere tra 1 e 1.5 watt su metro quadro sugli 11 anni. Quindi avere una mancanza totale di attività solare in un ciclo praticamente ci porterebbe 1 watt in metro quadro o 1 watt e mezzo per metro quadro in meno, il che sarebbe già più che compensato dalla crescita dell'effetto serra per le attività antropiche. Questo giusto per mettere nel dovuto conto queste notizie che sono un po' fantascientifiche. Perché noi emettiamo più gas serra? Chi la emette? Allora, qui ci sono i cinque principali effetti di produzione di gas serra. Energia, questo forse se anche non ve l'avessi detto lo avresti immaginato perché la produzione di energia adesso viene per lo più bruciando combustibili fossili che siano petrolio, gas, carbone, metano, comunque viene da lì. Secondo posto per l'agricoltura, foreste e altri utilizzi del suolo. Questo un po' io quando ho visto questi numeri mi ero un po' sorpreso perché non pensavo che l'agricoltura nel suo complesso potesse addirittura sorpassare l'industria come produzione di gas serra. Eppure è così. Va detto che in questo comparto è incluso anche tutto il trasporto delle derate agricole, tutto l'utilizzo, la lavorazione del suolo che viene fatta con macchine che vanno a combustibili fossili. Quindi insomma è un'agricoltura come intero comparto. Resta il fatto che è un numero grande. L'industria 21% e già la somma di questi tre fa praticamente 80%. Restano i trasporti che include sia i mezzi privati che quelli pubblici e infine il 6% le costruzioni e quasi tutto è dovuto alla produzione del cemento. Il cemento necessita combustibili fossili, produzione e trasporto del cemento. Quindi questi sono i motivi per cui noi stiamo emettendo combustibili fossili. Dove si può intervenire? In parte nelle costruzioni ma non tanto, sui trasporti sicuramente per una certa parte di trasporti, però passare per esempio alle automobili elettriche vuol dire che io poi devo produrre l'energia elettrica non dai combustibili fossili se no sposto solo il punto di emissione. Sull'industria sarà molto difficile intervenire, in parte si può intervenire sull'agricoltura ma non troppo e sull'energia almeno per la parte elettrica si può intervenire, quindi non c'è tantissimo margine comunque. Dove va a finire la CO2? Qui faccio giusto due cenni in atmosfera 47% nelle piante 27% e negli oceani 26% questo è il ratio di assorbimento le piante respirano CO2 la mischiano con l'acqua la utilizzano grazie all'energia solare per produrre zucchero e dallo zucchero producono foglie e legno gli oceani assorbono come tutti i fluidi come la coca cola lo spumante o la birra sono in grado di assorbire CO2 così fanno anche gli oceani naturalmente più è caldo più l'oceano è caldo e meno assorbe quindi col cambiamento climatico in atto gli oceani stanno assorbendo di meno ma un grado non è tantissimo quindi assorbono un briciolino in meno cosa se ne fanno una volta assorbita ci sono degli organismi che vivono negli oceani che sono in grado di usare l'acido carbonico che è il sottoprodotto della reazione CO2 più acqua per costruirsi degli gusci e degli scheletri di carbonato di calcio quando muoiono questo carbonato di calcio si sedimenta e in milioni di anni diventa roccia quindi in questo modo grazie agli organismi l'oceano elimina la CO2 però ci vogliono milioni di anni per diciamo finalizzare questo processo quindi un processo molto lento adesso come guardiamo il clima futuro e anche il clima presente tutto sommato usiamo i modelli i modelli sono delle diciamo dei codici al calcolatore e qui tutti voi vi stupirete quando io vi dico che ancora oggi la stragrande maggioranza dei modelli climatici così come i modelli meteorologici è ancora scritto in Fortran che è un linguaggio arcaico per molti di voi ma in realtà è il linguaggio ancora più usato nel nostro campo ed è questo il motivo per cui noi insistiamo a insegnare questo linguaggio di programmazione che probabilmente si usa soltanto nella fisica dell'atmosfera i modelli vengono utilizzati come se fossero degli strumenti di laboratorio vengono usati ovviamente per prevedere come strumenti prognostici per prevedere il clima futuro ma prevedere a noi non piace noi climatologi quando si parla di previsioni climatiche ci viene la pelle d'oca preferiamo parlare di proiezioni climatiche proprio per far capire che quella del clima non è una previsione se io faccio girare il modello per un secolo il modello mi dirà ora per ora e località per località qual è il tempo che fa però poi io non vado a prendere quel dato lì non me ne frega niente di sapere che tempo farà a Torino il 28 di gennaio del 2071 io andrò a vedere comunque la statistica di queste previsioni del modello quindi medierò per esempio tutti i gennaio dal 2071 al 2100 e andrò a vedere il clima di Torino o ancora meglio nel nord Italia in quel trentennio quindi io vado a fare della statistica anche avanzata sulle uscite dei modelli non vado a vedere le uscite singole per cui preferiamo chiamare proiezioni oppure lo posso fare come strumenti diagnostici e qui invece di parlarvi vi faccio vedere un esempio questo grafico è stato creato facendo girare un'ottantina di modelli ogni modello è questa curva gialla è una delle curve gialle quindi non uno ma tanti modelli nel ventesimo secolo dal 1900 praticamente a oggi e dandogli in pasto sono le osservazioni del ventesimo secolo e anche i valori di gas sera misurati nel ventesimo secolo la media di tutti questi 80 modelli è la linea rossa e si paragona con la linea nera che invece sono le misure di temperatura queste sono anomalie di temperatura sempre riferite a un trentennio di riferimento allora ci sono delle discrepanze tipo qui intorno al 1940 ci sono circa due tre decimi di grado tra la media in rosso e i dati in nero però innegabilmente il modello va dietro i dati mostra bene questa fase di crescita mostra in qualche modo la stazionarietà intorno tra il 1940 e il 75 mostra soprattutto bene questa fase di crescita finale individuando perfettamente l'esplosione del pinatubo anche se la sottostimo un po' come temperatura ma la individua perfettamente come tempistica qui invece vi faccio vedere il run con un po' meno di modelli qui sono 80 qui sono una trentina sono ognuna di queste linee azzurrine la media e la linea blu i dati sono gli stessi qual è la differenza tra le simulazioni a destra e quella a sinistra che a destra io gli ho dato come Gasserra i valori iniziali del 1900 tenuti costanti quindi come se i Gasserra non fossero continuati ad aumentare nel ventesimo secolo ma fossero rimasti tutti alla stessa concentrazione per tutto il secolo e cosa si vede si vede che all'inizio in realtà ha una una risultanza che non è così diversa dalla simulazione precedente fino al 1940 in realtà fino al 1970 più o meno le due simulazioni sono molto simili però poi dal 1970 in poi vediamo che addirittura queste simulazioni prevedono un raffreddamento quindi una diminuzione delle temperature tant'è vero che il valore finale sarebbe quasi paragonabile con quello iniziale quindi questo ci evidenzia senza dubbio che l'ultimo incremento di temperatura dal 1970 in poi è dovuto all'incremento di Gasserra questo è come si diceva prima uno studio di attribuzione cioè si è attribuito all'incremento di Gasserra la causa del cambiamento ed è insito in questo grafico soprattutto nel confronto tra queste due simulazioni questo mi dà una validazione a posteriori della diciamo della tecnica utilizzata e sottolineo questo non è un singolo modello sono tanti modelli tutti diversi tra di loro poi la fisica che c'è dietro è simile ma ogni modello comunque ha le sue parametrizzazioni e può essere considerato indipendente dagli altri modelli vado avanti per fare scenari futuri bisogna sapere quali saranno i valori dei Gasserra nel futuro qui ci sono bisogna quindi stimare le emissioni e questo non lo fanno i modelli di clima devo farlo io e siccome non si sa esattamente come varierà le concentrazioni di Gasserra nel futuro si è deciso di stimare quattro scenari di variazione di CO2 scenari peggiori con variazioni sostanziali di CO2 con continua crescita e scenari migliori invece con diminuzione delle emissioni fino a valori prossimi allo zero sia per CO2 sia per metano sia per gli altri Gasserra se ne sono individuati quattro e queste sigle RCP con dei numeri indicano in realtà quanti watt su metro quadro sono dovuti alla forzante dei Gasserra quindi questo RCP 2.6 vuol dire che a fine secolo si prevede che con questo scenario ci sarà un aumento di 2.6 watt per metro quadro il peggiore è che l'RCP 8.5 prevede un aumento di 8.5 watt su metro quadro con questi quattro scenari si calcolano le concentrazioni che corrispondono alle emissioni e una volta che ho le concentrazioni faccio girare i modelli e di qui calcolo per esempio le anomalie di temperatura di nuovo faccio diversi run di modelli poi calcolo la media del modello quindi poi posso calcolarmi un valore medio con una forchetta per ogni scenario di emissione questo qui l'RCP 2.6 è lo scenario che prevede un valore medio di temperatura tra un grado e mezzo e due ed è quello assunto come riferimento dal trattato di Parigi di tre anni fa invece questo è quello lo scenario peggiore possibile in cui le concentrazioni continuano a aumentare chiamato business as usual quindi tutta questa struttura di simulazioni basate su questi scenari di emissione che è un profano può sembrare una sorta di esercizio di Cassandra sulla predizione del futuro in realtà ha una base abbastanza scientifica solida ed è stata teorizzata appunto da tutti gli scienziati che sono stati coinvolti dall'IPCC queste sono le risultanze giusto per farvi il confronto tutti questi valori di anomalia sono riferiti al periodo preindustriale quindi 1880 1900 e notiamo che noi siamo praticamente qui adesso quindi siamo già oltre il grado rispetto a questo periodo e ci avviciniamo a grandi passi verso il grado e mezzo due gradi giusto questo poi passo agli effetti c'è stato uno studio che ha voluto far riflettere su questa considerazione qui vi faccio vedere un grafico in cui è ricostruito l'andamento di temperatura negli ultimi 800.000 anni fatto in antartide con i carotaggi nel ghiaccio le anomalie di temperatura sono su questa scala i periodi più in basso con le temperature inferiori sono i periodi glaciali qui ci sono le ultime glaciazioni una due tre e quattro invece i periodi più caldi sono gli interglaciali adesso siamo appunto in un interglaciale ci sono circa dieci gradi di differenza tra glaciale e interglaciale come vedete c'è una transizione brusca cioè negli ultimi quattro cicli adesso stiamo iniziando il quinto c'è stata una transizione di temperatura tra valori che sono stati più o meno allineati sia nei massimi sia nei minimi è come se il sistema fosse saltato in due buche di potenziale una corrispondente ai massimi e una corrispondente ai minimi qualcuno ha fatto uno studio e ha detto che è praticamente come se la terra si fosse mossa continuamente dal minimo corrispondente al periodo glaciale alla buca di potenziale successiva corrispondente all'interglaciale e il pericolo è che adesso ci muoviamo verso un nuovo punto di equilibrio a causa dell'incremento di concentrazione di CO2 che durante tutte le glaciazioni non ha mai superato i 280 ppm parti per milione in volume e invece adesso è arrivato a superare i 400 e quindi potremmo muoverci verso questa direzione quindi verso un nuovo equilibrio corrispondente a un valore di concentrazione di CO2 molto più alte non ci sono precedenti con un incremento così rapido di CO2 nella storia della terra almeno da quanto sappiamo da tutti i carotaggi che sono stati effettuati sia nel ghiaccio sia nei sedimenti oceanici quindi non sappiamo bene cosa potrebbe succedere questa è una possibilità Claudio posso interromperti volevo interrompere già io volevo dirti una cosa questo grafico io l'ho visto se torni alla slide prima il punto è che l'aumento di temperatura precede sempre l'aumento di concentrazione di CO2 quindi lo scenario attuale è completamente nuovo però il punto è che dai cicli storici sembra che l'aumento di temperatura sia la causa dell'aumento di CO2 perché in passato è stato così ma non sempre io ti potrei citare un caso che è quello del PETM il Paleosin Iosin Thermal Maximum avvenuto circa 60 milioni di anni fa in cui c'è stato presumibilmente perché non c'è certezza ovviamente un rilascio di metano improvviso in atmosfera che ha prodotto un effetto sera mostruoso che ha fatto salire le temperature quello è un caso in cui è stato il metano in realtà a produrre l'effetto sera e sicuramente lì l'incremento di concentrazione ha preceduto la temperatura è verissimo quello che dici in tutti gli ultimi casi sicuramente in questi visualizzati nelle glaciazioni il segnale precedente è stato quello della temperatura dovuto a una variazione di radiazione solare causato sicuramente con questa ciclicità dall'eccentricità dell'orbita terrestre che è cambiata però adesso sappiamo con sicurezza che invece il segnale prevalente è l'incremento della concentrazione ce lo dice Svante Arrhenius ed è dimostrato dai dati attuali cioè questo è innegabile chiaramente non abbiamo ancora avuto una variazione così significativa da far crescere di 10 gradi come nelle glaciazioni per fortuna perché con 10 gradi in più non saremmo qua almeno non tutti gli 8 miliardi di abitanti del pianeta Terra questo è sicuro però ripeto nella storia complessiva della Terra a qualche caso c'è stato quello del ptm1 emettere metano vuol dire emettere co2 perché poi il metano si ossida e 60 milioni di anni fa l'ossigeno c'era per ossidare il metano quindi comunque il metano dopo un po' diventa co2 e quindi cambia gas serra ma è sempre un gas serra io adesso volevo siamo già quasi allo scadere dell'ora quindi salto un po' di questi grafici vi faccio vedere qualche effetto innalzamento del livello dei mari un effetto che si sta registrando in tutto il mondo la crescita è di circa 3.2 millimetri all'anno livello del mare che aumenta per due motivi fusione del ghiaccio tutti i ghiacci su continente che fondono portano acqua al mare i ghiacci marini no perché il ghiaccio del mare è già in equilibrio con se stesso e quindi la sua fusione non fa cambiare il livello del mare ma il ghiaccio in Groenlandia e in Antartide sì per quanto riguarda qui c'è il dettaglio della Groenlandia questo dura meno di un minuto ve lo posso far vedere negli ultimi dal 2002 al 2016 c'è il movimento dei ghiacci sulla Groenlandia e il colore rossiccio ci fa vedere i metri di acqua equivalente persi rispetto al 2002 si vede che praticamente sta fondendo tutta la zona costiera della Groenlandia anche a nord mentre invece rimane in tonsa quella centrale dove si fanno i carotaggi storici e dove ci sono circa 3 km di ghiaccio nella parte centrale però nelle parti marginali vediamo che sono stati persi fino a 4 metri di acqua equivalente che vuol dire circa 5 metri di ghiaccio considerando la densità del ghiaccio ghiaccio marino lo salto vi parlo invece biodiversità anche parliamo di montagne perché siamo in Piemonte le montagne sono una vengono chiamate sentinelle del clima che cambia sono un ambiente molto sensibile perché sono zone fredde dove il ghiaccio fonde e quindi uno dei feedback più importanti nel clima che è quello ghiaccio albedo cioè il ghiaccio riflette molto la radiazione solare se il ghiaccio sparisce il terreno assorbe la radiazione solare quindi amplifica il cambiamento climatico in montagna si vede i ghiacciai che si ritirano si vede il permafrost che si degrada quindi il terreno diventa più friabile c'è più erosione la neve al suolo dura molto di meno nella stagione fredda e molto spesso piove d'inverno anche sulla neve con ripercussioni sul bilancio idrico delle zone alpine c'è biodiversità in declino perché non sempre animali e piante riescono a muoversi in tempo e quindi cambiano gli ecosistemi che il paesaggio cambi ve lo faccio vedere facendovi vedere solo due gruppi di foto una è storica questo è il ghiacciaio Predebar foto di Duroetti del 1897 paragonate con due foto di Mercalli di pochi anni fa è innegabile e si vede praticamente in tutti i ghiacciai di quasi tutto il mondo un ritiro simile la seconda è mia queste foto non è che siano particolarmente belle tra l'altro sono anche diverse perché quelle sopra sono con pellicole quelle sotto sono digitali quindi anche i colori sono venuti diversi ma quello che volevo perché le ho messe perché in passato per esempio per far vedere una variazione significativa dovevo prendere le foto del nonno o qualche cartolina nel presente basta spostarsi di 10-15 anni entrambe le foto le ho fatte io cioè entrambe le coppie di foto le ho fatte io quindi nell'arco della mia stessa vita ho visto i cambiamenti climatici per esempio questo ghiaccio scuro che appare nella parte terminale del ghiacciaio del carro anzi questo è il ghiacciaio di Nel indica ghiaccio molto antico ghiaccio che probabilmente ha più di un secolo perché tutta la parte superiore di ghiaccio più recente neve più fresca è stato fuso dal cambiamento climatico questo è quello che si vede praticamente in tutte le montagne molti ghiacciai sono addirittura estinti e lo si vede un po' dappertutto però ripeto adesso non è necessario andare a prendere le cartoline dal giornalaio del paese lo si vede direttamente confrontando una foto di pochi anni fa sull'ecosistema che cambia vi faccio riflettere una cosa sotto vedete un'idealizzazione di una montagna tutte le montagne sono praticamente dei coni o se volete delle piramidi qui c'è l'effetto del cambiamento climatico queste piante hanno l'areale che si sposta più in alto queste che vivono nella seconda fascia tutto si sposta più in alto quello che vive nell'ultima fascia dopo un po' non ha più spazio infatti i colleghi zoologi e botanici dicono che si sposta in cielo cioè si estingue però quello su cui volevo farvi riflettere è che finché si sposta uno può dire vabbè si sposta se riesce a seguire il cambiamento va bene però notate che l'areale si stringe perché il fatto che la montagna sia conica o a piramide fa sì che la fascia nuova è più stretta di quella vecchia quindi anche se le piante e gli animali riescono a spostarsi in tempo e molto spesso non ce la fanno perché o sono troppo piccoli oppure sono piante quindi non hanno le gambe devono sperare solo nel trasporto dei semi e che il cambiamento climatico non sia così rapido da impedire che la crescita della nuova pianta avvenga troppo tardi ma anche se ce la facessero si trovano comunque un'area che è più piccola quindi diciamo l'ecosistema si riduce progressivamente man mano che mi sposto verso la cima poi vabbè ci sono le specie che si estinguono e le specie che invece importiamo con tutte le problematiche di malattie su cui non mi soffermo produttività agricola vi faccio vedere due o tre grafici uno è questo uno studio fatto da dei colleghi vediamo questo sull'Africa a destra il cambiamento climatico porterà una produttività agricola in declino per motivi sostanzialmente idrologici in tutta questa fascia subsahariana di 50% o maggiore minore produttività agricola quindi la produttività agricola in questa fascia rossa cala di oltre 50% cosa fa chi vive lì cosa può fare si sposta e siccome l'Africa non è un continente florido dove va verrà da noi in Europa quindi migrazioni c'è un collega del CNR che ha fatto uno studio e ha già visto che le migrazioni sono perfettamente correlate con gli episodi più critici di incremento della temperatura in Africa soprattutto nelle zone sahariane e subsahariane quindi con questi scenari è pensabile che ci saranno molti più migranti di oggi in un prossimo futuro e se pensiamo a tutti i problemi che già i migranti di oggi ci stanno provocando anche problemi di vivibilità con le persone e tutte le problematiche annesse connesse ai partiti politici che vivono su questi fattori possiamo immaginare che i problemi potranno solo crescere il secondo studio che vi cito è questo uno studio nostro sulle culture della vite per esempio in Piemonte abbiamo analizzato 60 anni di dati dal 50 al 2010 1950 e abbiamo visto che il vino è molto più zuccherato 7 gradi in più che corrispondono tra 1 e 2 gradi alcolici se lo zucchero viene tutto trasformato in alcol quindi abbiamo un vino molto più alcolico e un vino che fiorisce una vite che fiorisce quasi mezzo mese in anticipo e poi la maturazione avviene addirittura un mese e mezzo in anticipo nel 2010 rispetto al 1950 gran parte della variazione c'è nell'ultimo periodo dal 1980 in poi e questo è perfettamente correlato con l'incremento delle temperature guardate anche qui nel caso dello zucchero in tanti anni c'era vino poco zuccherino conseguenza delle forti variazioni interannuali adesso praticamente il vino è tutto zuccherato più o meno in ugual misura non ci sono più questi minimi che c'erano una volta qualcuno si è spinto ancora più avanti ha provato a vedere questo è uno studio apparso nel 2013 sul PNAS quali sono le zone evocate per il vino quelle rosse sono dove oggi si produce vino e però non si produrrà più secondo il modello di questa persona le verdi sono dove si produce una volta verde-giallo una volta e si produce adesso e si produrrà anche nel futuro quelle blu dove non si produce adesso e si produrrà nel futuro e vedete che l'Italia è praticamente tutta rossa tranne un po' di blu che lo vediamo sull'Appennino e sulle Alpi in compenso sono blu la Svizzera l'Inghilterra il nord della Francia il nord della Germania dove adesso si produce nulla e allora uno si chiede ma le nostre celebri colline del Barolo come questa nella foto spariranno quindi noi dovremmo bere il Barolo prodotto in Svizzera probabilmente nel prossimo secolo allora uno può dire del vino non me ne frega niente perché non mi piace ma sicuramente per l'economia piemontese questo è un danno e poi comunque il vino è un indicatore perché per molte altre coltivazioni varrà lo stesso discorso potrebbe cambiare la produttività potrebbe cambiare anche semplicemente il gusto e quindi non rendere più appetibile certi tipi di produzione non so se ho ancora tempo se è meglio che mi fermi qua abbiamo passato il tempo standard però mi sembra che tutti siano abbastanza interessati quindi un cenno sul problema dell'inquinamento tagliando la prima parte uno dice inquinamento e clima che cavolo c'entra si parla di una diciamo di un fattore meteorologico perché l'inquinamento è normalmente problematica di stagioni quindi di parti di anno e il clima cosa c'entra lo vediamo innanzitutto qui taglio moltissimo l'inquinamento è un problema che comunque è in diminuzione qui abbiamo tutti i principali inquinanti e negli ultimi anni vediamo che le concentrazioni stanno diminuendo per esempio io nella mia storia personale ricordo che quando ero piccolo io sono nato a Torino città poi da molto piccolo mi sono spostato in periferia perché i dottori avevano suggerito ai miei genitori che l'area di Torino era molto inquinata ed era negli anni 1960 per dire io penso che l'area fosse veramente più inquinata a Torino nonostante il minore traffico veicolare perché una volta si poneva meno attenzione all'inquinamento dell'aria si bruciava anche la nafta mentre adesso si brucia il metano che comunque produce meno inquinanti ciò detto comunque noi siamo molti di più adesso c'è molto più traffico veicolare c'è un riscaldamento più efficace i mesi critici sono i mesi invernali lo vediamo chiaramente da questo grafico che indica il numero di superamenti della soglia di particolato e sono tutti nei mesi invernali praticamente da settembre ad aprile con settembre aprile molto piccoli come superamenti ma il massimo è tra novembre e febbraio poi c'è anche un ciclo diurno e il ciclo diurno ci dice che per quanto riguarda il PM2.5 vedete che il picco mattutino in anticipo questo è prevalentemente collegato al traffico mentre questo secondo del PM10 è più collegato al riscaldamento lo stessa cosa dicasi per la sera il PM2.5 è più collegato ci indica le temporizzazioni del traffico veicolare il PM10 ci indica di più le temporizzazioni del riscaldamento domestico poi è ovvio che tutto contribuisce qui c'è una percentuale di chi inquina se vediamo il traffico merci su strada 21% poi ci sono i veicoli leggeri 13% la somma fa 34% è il principale emettitore poi però abbiamo anche riscaldamento a legna 17% magari non nelle città ma nelle periferie sì poi c'è l'industria e poi c'è il riscaldamento non a legna questi sono gli emettitori di diciamo inquinamento qui c'è il legame col clima ma prima vi devo dire quando l'inquinamento crea problemi crea problemi quando si verificano situazioni anticicloniche cioè di alta pressione tipo questa raffigurata qui in questa immagine con una campana di alte pressioni centrata sul nord Africa che influenza praticamente tutta la nostra penisola adesso questa è una configurazione di agosto e abbiamo visto che ad agosto non ci sono problemi di inquinamento questo perché cosa cambia ad agosto rispetto all'inverno d'inverno si forma questo strato di inversione termica che diventa permanente giorno e notte e che non permette il rimescolamento dell'aria sopra la città con l'aria più in alto d'estate questo strato si forma lo stesso di notte ma intanto si forma un po' più in alto e poi di giorno sparisce perché la radiazione solare è fortissima scalda il suolo dal suolo salgono delle bolle di aria calda che bucano questo strato di inversione e lo rimescolano d'inverno la radiazione solare è molto debole non riesce a scaldare il suolo non si formano le bolle di aria calda e questo strato di inversione praticamente quando si forma e si forma sempre quando c'è alta pressione fa da tappo e non permette il rimescolamento dell'aria che sta sopra la città tra l'altro d'inverno lo strato è anche basso e quindi veramente lo straterello d'aria sopra la città che accumula tutti gli inquinanti può essere spesso 100-150 metri gli inquinanti stanno tutti lì la città continua a emetterli e al limite ci può essere una brezza che li sposta verso la periferia in una metà della giornata e poi li riporta verso la città nell'altra metà se io vado in collina vedo questa tipica situazione questa è una foto del 5 dicembre del 2018 e questa è la tipica immagine della città di Torino completamente ricoperta da questa cappa di inquinamento lo strato di inversione è subito sopra chi vive fuori vive bene finché l'inversione è più bassa invece chi vive dentro si respira tutta questa immondizia finché l'anticiclone rimane lì praticamente quest'aria non viene rimossa la pianura torinese è poi penalizzata perché ha le Alpi da tre lati e ha le colline del Po dal quarto lato le colline del Po sono da dove è stata fatta la foto quindi qui si vede proprio il catino della provincia di Torino che è chiusa ecco allora qual è il legame col clima abbiamo detto anticicloni gli anticicloni da noi si formano in questa zona tra le azzorre dove si formano più d'estate e il Nord Africa dove a volte si formano d'inverno quindi tutta questa fascia tra le azzorre il Nord Africa io ho fatto un conto ho calcolato il valore medio della pressione nel trentennio 1990 2019 meno il trentennio 61 90 si c'è un anno sovrapposto ma è giusto per fare una climatologia questa è la differenza dove vedete 30 vuol dire che il livello a cui c'è la pressione di 500 millivaretto Pascal è 30 metri più alto quindi vuol dire che questa fascia rossa è come se avesse una pressione maggiore quindi nel trentennio più recente è aumentata la pressione su tutta l'Europa occidentale quindi questo cosa vuol dire è un valore medio se ho una pressione maggiore vuol dire che ci sono più casi di alta pressione e in questi casi la pressione è più alta quindi è un effetto che si è aggravato con il cambiamento climatico il cambiamento climatico ci sta portando più frequenza di anticicloni con anticicloni più massicci quindi sta favorendo situazioni come questa che diventano quindi più probabili più persistenti e magari anche concentrazioni maggiori perché tanto maggiore è l'anticiclone come quantitativo di pressione tanto più spesso è questo strato di inversione e quindi tanto inferiore il rimescolamento quindi il cambiamento climatico in realtà sta favorendo una persistenza di questi anticicloni il massimo tra l'altro ce l'abbiamo proprio nella zona tra la Svizzera e il nord Italia quindi è un effetto che si sta facendo sentire proprio da noi pianura padane in generale dove non ne avremmo bisogno rapida conclusione abbiamo capito che bisogna mettere meno gas serra adesso adesso salto tutto questo da sempre da quando è nata l'IPCC praticamente si sono individuate due linee di azione mitigazione che vuol dire affrontare le cause per eliminare gli effetti futuri cioè emettere meno gas serra riduzione delle emissioni di gas serra e tutto ciò che è sotto è la conseguenza per emettere meno gas serra deve aumentare l'efficienza energetica producendo energia senza bruciare combustibili fossili e poi cercare dei pozzi di carbonio cioè dei meccanismi che tendano a immagazzinare CO2 rimuovendola dall'atmosfera seconda cosa adattamento perché comunque abbiamo visto che ormai un grado e mezzo di temperatura rispetto al 1880 l'abbiamo già c'è già e questo non tornerà indietro a meno di un bombardamento con asteroide che sinceramente produrrebbe effetti sicuramente peggiori quindi bisogna convivere con gli effetti già in corso e con quelli che ci attendiamo perché non possiamo azzerare le emissioni da domani comunque noi possiamo se tutto va bene intraprendere un percorso in cui diminuiremo progressivamente le emissioni ma questo farà sì che le concentrazioni per un po' continueranno a crescere quindi comunque dei cambiamenti ci saranno probabilmente fino a due gradi nel più positivo dei casi ci arriveremo e quindi dovremo adattarci adattarci vuol dire prendere atto che ci saranno estati molto caldi quindi costruire delle case in maniera tale che possiamo sopportare questo calore non vuol dire sicuramente installare più condizionatori d'aria soprattutto se questi usano combustibili fossili perché vuol dire aumentare la produzione di gas e quindi fare il contrario di quello che servirebbe per esempio adattarsi anche a livello di produzione agricola noi abbiamo una popolazione del mondo in aumento servirà più cibo però abbiamo visto che certe produzioni potrebbero avere difficoltà bisogna pianificare cioè pianificare il migliore adattamento possibile questo sintetizzando al massimo se mi lasciate un minuto per una riflessione queste sono tutte le conferenze sul clima che si sono succedute praticamente dalla prima di Rio che è stata la COP0 se vogliamo fino all'ultima di quella del Cile però fatta a Madrid quella di quest'anno non si farà per causa del Covid a Rio c'era stata una 14enne Seren Suzuki che aveva parlato nel consesso globale a Catovice c'è stata Greta Thunberg che ha parlato un'altra minorenne nel consesso globale tra questi due interventi di minorenni in una riunione che ha visto i capi di Stato di tutto il mondo sono passati quasi 30 anni CO2 è cresciuta di 50 ppm ma diciamo a livello globale non c'è stata una grande differenza adesso con l'accordo di Parigi che è stata la COP21 quindi diciamo nel 2015 si spera che sia iniziato un percorso di riduzione delle emissioni perché se no quegli effetti li vedremo crescere nel tempo e potrebbero avere degli aspetti negativi anche sulla nostra vita anche perché se vogliamo ridurre le emissioni se fossimo partiti nel 2015 avremmo dovuto ridurle di un certo quantitativo più si ritarda e più le riduzioni sono drastiche questo comporta costi maggiori e problemi maggiori per la popolazione possiamo anche fare un conto di quanto tempo abbiamo adesso i valori di CO2 sono 414 ppm i modelli ci dicono che 450 è il limite che corrisponde ai due gradi di aumento il ratio di crescita è circa 3 ppm all'anno facendo il rapporto abbiamo 12 anni di tempo prima di arrivare a 450 a questo ritmo dopo se superiamo questi 12 anni bisogna inventarsi dei modi per ridurre le concentrazioni non è facile oppure bisognerà adattarsi a valori più alti di incremento di temperatura cosa si può fare a livello collettivo l'abbiamo detto politiche globali purtroppo non aiuta il fatto che la nazione che diciamo ha lo stile di vita migliore del mondo cioè gli Stati Uniti siano retti da un presidente a cui non frega nulla di queste tematiche a livello individuale stili di vita che consentono di emettere meno CO2 possibile e qui ne sono indicati alcuni come vedete ormai non c'è più il cambio delle lampadine perché ormai l'abbiamo già fatto tutti tutti abbiamo le lampade risparmio energetico bisogna fare delle scelte che permettono di avere degli impatti più alti sulla riduzione di combustibili fossili qui ne sono indicate alcune io su questa parte sono andato velocissimo perché ho sforato quasi di 20 minuti rispetto alle mie aspettative io terminerei qua grazie Claudio senti ti ringrazio perché questi sono argomenti che si sentono molto ma per me sono molto utili avere un'esposizione diciamo sistematica e scientifica di tutte queste cose sarebbe interessante poi in un altro magari seminario approfondire invece il punto di vista è negazionista secondo me per capire come si fa